Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a vedere una nuova versione della nostra telecamera. Eravamo nel 2012 nella precedente puntata, oggi siamo nel 2013, barra inizi 2014. Infatti questa telecamera è stata per quasi un anno in commercio. Pro e contro di questa telecamera. Innanzitutto il peso. Il peso lo hanno aumentato per far sembrare la nostra penna molto molto più, come dire, reale di una spy cam. Infatti hanno inserito una sorta di contrappeso, oltre a quello della telecamera, anche quello praticamente del lato inferiore. In modo che il peso era tenue su tutta la nostra microcamera. Per andare a usare la penna, quindi la penna è reale, cioè si può andare a utilizzare senza problemi, si può scrivere. E il difetto della birra che si svitava l'hanno rimosso. Infatti anche facendo pressione, cioè io per aprirla devo fare così, per aprirla, per far ricapire. E hanno rimosso proprio appunto questo problema. Un'altra cosa che hanno rimosso è la USB. Perché? Perché molte persone, leggendo sui vari forum o roba di genere, facevano questa cosa nello staccarlo. Tac, e facevano questo gesto. Facendo questo gesto spezzavano di solito la USB che c'era appunto sopra. Oltre a quello anche il diametro hanno diminuito. Infatti adesso c'è questa sporgenza, chiamiamola così, che è quella della microSD. Infatti hanno rimosso la memoria interna. E hanno inserito un attacco molto più piccolo e molto più maneggevole. Il nostro sistema inoltre ha rimosso anche i due fastidiosissimi buchi che avevano inserito nel lato inferiore. Ma praticamente li hanno ravvicinati. Infatti il microfono e spia sono innanzitutto... La spia è qua sopra come al solito, non hanno rimosso appunto questo problema. Però il microfono l'hanno più avvicinato. Oltre a questo il tappo è stato cambiato. Quindi è stato inserito un tappo già in metallo. Anche se tutto il resto la corporatura è ancora un secondo. Qui è plastica mentre qui è ferro. Cioè praticamente hanno fatto una via di mezzo. Oltre a quello hanno cambiato anche il tipo di colore della penna. Quindi la stiro hanno cambiato appunto il colore. Hanno inserito queste sorte di grigli antiscivolo. E poi la nostra telecamera è stata avvicinata appunto di più alla sporgenza. Cosa che prima c'era molto più spazio nella precedente versione. Come vedete. Ed era anche più malmessa. Oltre a questo altri lati positivi. E poi andiamo a quelli negativi. I lati positivi che questa telecamera finalmente gli hanno fatto l'update all'HD. Quindi adesso può girare video in HD. Quasi come full HD. Quindi non so come mai hanno fatto una roba del genere. Di mettere i 1280x960 addirittura. Ma ho visto che praticamente tutte le penne spia utilizzano questa grandezza video. Può fare foto, può fare video senza agire sull'interruttore. Che nella precedente penna spia esisteva. Quindi praticamente per andare a settare da video a foto bisognava fare questo gesto. Aprire. Qui c'era l'interruttorino nascosto. Chiamiamolo così. Si girava praticamente. Poi si richiudeva. Cioè era un casino insomma. Cioè non si poteva lavorarci bene con queste penne. Cioè ci si litigava per farvi capire. E per chi aveva poco tempo non poteva appunto scattare foto ma fare solo video. Invece questo sistema hanno cambiato. Hanno inserito e praticamente si preme una volta e la nostra telecamera si accende. Premendo due volte parte il video bisogna aspettare esattamente 5 secondi per l'avvio del video. Così abbiamo il tempo di sistemarci al tutto. E poi per stoppare basterà cliccare. E la telecamera si spegne da sola dopo un minuto. Mentre per fare foto basterà dare un semplice impulso e farà foto fino a 5 megapixel. Quindi veramente un'ottima telecamera. Hanno migliorato appunto l'immagine. Hanno migliorato il fatto estetico. Però adesso per questa penna è tutto. Ma andremo a vedere cosa hanno fatto ancora nella versione 2014-2015. Anche se era più fine 2014 e praticamente fine 2015, quasi inizio 2016. Quindi da questa puntata è tutto. Ci vediamo a un prossimo episodio.